questo video vi mostrerò come attivare la runa maggiore di radan naturalmente prima dovrete sconfiggere il boss radan che si trova a sud della mappa nella zona rossa una volta sconfitto dovrete partendo da questa grazia recarvi alla torre l'unica torre che c'è in questa zona quindi non sarà difficile trovarla ritroverete a dover saltare questo precipizio che vedete nelle immagini dovrete atterrare a piedi vi consiglio su questo ramo che si trova qui sotto trovare la strada non sarà facilissimo soprattutto se volete esplorare tutto se seguite la strada che vi mostrerò farete subito ma lascerete indietro molti oggetti alquanto succosi l'obiettivo sarà quello di arrivare in cima alla torre Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Resterà che purificare la vostra runa maggiore e a questo punto sarà pronta all'uso. Come per tutti gli altri video vi mostrerò negli ultimi secondi come poter attivare la runa maggiore perché non basta equipaggiarla, bisogna anche attivarla con le sette runiche. Se questo video vi è piaciuto lasciate un like e condividete. Grazie a tutti.